Buona parola, Giorgio. Si dice che si sta a ritirare Bologna, si dice che a Porta Rosso anche il tuo paletto, ti emoziona? E' lindo questo, eh? Lo lasciamo un po' sul cuore. Che piazza o che non piazza questo è lindo? Guardate, c'è una maglia o una tuta? Una tuta. Oh, il campo è tornato bello, è stato bello rispetto a noi. Se non è colpato. Oh, ma cavolo si è tornato a Febillandia. Oh, è un nino, non tagliarci da me, non c'è. Noi sappiamo questo, state zitti. In attesa di questo video.